Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Eccomi di nuovo qui con un nuovissimo video. Oggi condividerò con voi un nuovo video di Alili Brahim Cheyan e Sila Turkoglu. Viene alla ribalta il Gizim che circonda Alili Brahim Cheyan e Sila Turkoglu, che hanno suscitato grande ammirazione e pubblico sui social media con la loro chimica sullo schermo. Nonostante la loro condivisione sullo schermo nella popolare serie tv Cranberry Sherbet, i due attori hanno mostrato una chiara mancanza di familiarità l'uno con l'altro, suscitando domande e speculazioni tra i fan. Conosciuta per le sue performance affascinanti, Sila Turkoglu è sempre stata all'ordine del giorno con la sua storia intrigante. Sila Turkoglu gioca un ruolo importante nell'ammirevole serie Kitsilchik Serbeti, ma le dinamiche fuori campo hanno aggiunto uno strato inaspettato di intrigo alla narrazione. La fonte della tensione sembra provenire dai registi della serie, che hanno dichiarato apertamente che sarebbero diffidenti nei confronti della possibilità che Turkoglu e Cheyan condividano qualsiasi legame fuori dallo schermo. I rapporti suggeriscono che, per ragioni spiegate dal regista, non voleva vedere Ila Koroglu e Ali Libraim Cheyan interagire oltre i loro ruoli nella sceneggiatura. Questa direttiva si è trasformata in una parafrasi sullo schermo che imitava la mancanza di familiarità tra i due attori. Lasciando gli spettatori a smettere di pensare alle ragioni alla base dell'apparente raggruppamento. I fan che volevano assistere alla vera alchimia tra Ila Turkoglu e Ali Libraim Cheyan sono rimasti sorpresi dalla relazione apparentemente distante tra i personaggi sullo schermo. Cari spettatori, grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci. Ci vediamo nei nuovi video.